io praticamente non parlo mai d'italia e neanche di aziende italiane ne ho parlato di recente in realtà in un video relativo a dei rizzi italiani ma sinceramente come avete visto dal video non è che ne fossi molto contento aziende con poche prospettive sinceramente ma per quanto riguarda invece le aziende da dividendo puro dalle quali non ci si aspetta magari un capital gain ma solo un flusso di cassa costante secondo me l'italia ha parecchie alternative io personalmente per questa lista ho scelto aziende che se dovessi andare a decidere di inserire titoli a distribuzione italiano sicuramente queste potrebbero andare fa parte del mio portafoglio ma di quali sono beh te lo dico subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale di io risparmio io come sempre sono pasquale il posto piccolo risparmiatore investitore della porta accanto e oggi torniamo a parlare dei miei investimenti italiani questa lara merce sul mio canale non si vedono mai effettivamente mi rendo conto che faccio pochissime menzioni del panorama degli investimenti delle aziende italiane ma sono convinto che ogni investitore debba avere la propria strategia personale per esempio mi collego a un collega su qui su youtube lorenzo di investire in borgia sa caccia di dividendi e beh lui ha numerose posizioni sul mercato italiano a proposito vi consiglio vivamente di andare a visitare il suo canale se siete amanti dei dividendi e degli investimenti a lungo termine andate a scrivervi perché avrete tanto da imparare ma ora basta e andiamo subito al pc ed eccoci al pc la prima azienda di oggi e assicurazioni generali chi non la conosce si occupa appunto di provvedere ai servizi assicurativi è un'azienda molto molto interessante mi è sempre piaciuta soprattutto per il suo dividendo ha una market cap di 25 miliardi e mezzo di euro una valutazione che al momento sembra leggermente sottovalutata se proprio leggermente secondo gli analisti di simple wall street io come sempre vi dico queste valutazioni prendetele molto con le pinze anzi con le panze perché non so sono sempre molto molto strane in termini di crescita futura l'azienda ha delle forti prospettive di crescita considerato il fatto che un'azienda piuttosto matura del 5.6 per cento in termini di earnings mentre di un 3.5 per cento in termini di revenue sempre questo su base annuale dal punto di vista finanziario essendo un'assicurazione ovviamente ha una certa disposizione dei propri asset che andiamo a vedere qui con la forchetta debiti equiti che va ad ampliarsi anno dopo anno e con la porzione di crescita che è sempre costante il dividendo di questa azienda del 6.22 per cento dividendo secondo me molto interessante perché comunque è sempre stato in crescita almeno da parecchi anni ed è molto ma molto sostenibile con un 63 per cento di payout ratio. La seconda azienda invece è A2A che è famosissima in tutta Italia per quanto riguarda la distribuzione della vendita e la produzione di gas ed elettricità in Italia ma anche dal punto di vista internazionale. In termini valutativi l'azienda risulta essere leggermente sottovalutata forse questa è una sottovalutazione un po' più accettabile in termini di Simpivo Street che ogni tanto spara sti numeri a caso. In termini di crescita futura non ci si aspetta grosse crescite anzi una decrescita in termini di earnings del 3 per cento su base annua mentre resta praticamente piatta in termini di fatturato ma è un'azienda comunque abbastanza matura con una market cap di circa 4 miliardi e 4 di euro. In termini di salute finanziaria l'azienda sempre avere una posizione piuttosto stabile che era nel passato evidenziata da una situazione debitoria leggermente più ampia di quella degli asset ma comunque resta semplicemente stabile nel tempo ma non sembra che ci sia una grossa variazione nella forchetta fra la parte debitoria è quella di equity. In termini di dividendo l'azienda offre un 5 51 per cento su base annua anche in questo caso con un dividendo in crescita costantemente dal 2012 praticamente è un payout trazzo molto più basso di quella di assicurazioni generali con attualmente il 45 per cento. Questa azienda è l'otto eiren che praticamente fa la stessa cosa di quello che fa A2A ma opera principalmente in Italia per cui non all'estero. Una market cap di 2 miliardi e 9 quasi 3 miliardi di euro. Una valutazione ancora leggermente meno sottovalutata delle altre un 8 per cento circa con un 4.1 per cento di crescita futura in termini di earnings e un 7.6 in termini di fatturato su base anno. Salute finanziarie che mi sembra migliore delle altre con quasi 10 miliardi di asset e 6 miliardi di debiti. Una porzione di cash che è piuttosto alta allenante dividendo in questo caso del 4 e 22 per cento anche questo in crescita praticamente dal 2012 anche se non in maniera costante è un payout trazzo molto più basso del 38 per cento. La prossima azienda è Esprinet, azienda che non è la più piccola dell'otto anche se è una market cap di soli 465 milioni di euro e va a vendere tramite dei servizi di sussidiarie dei prodotti che sono per l'information technology principalmente su Italia, Spagna, Portogallo e anche nel resto d'Europa. In questo caso la sua valutazione è fortemente sottovalutata ma non ci credo neanche se me lo fa vedere l'azienda con i suoi bilanci. L'ospettiva di crescita futura del 17.8 per cento in termini di earnings e del 6 per cento in termini di fatturato. Solitamente le aziende medio piccole hanno un po' più possibilità di crescita rispetto a quelle più grosse. Salute finanziaria che è ottima con dei dei asset in short term che sono praticamente a copire sia il debito a breve che a lungo termine e con una porzione di cash che è alta allenante ma piuttosto interessante. In questo caso il dividendo del 5 o 74 per cento con un dividendo che non è stabile nel tempo per cui bisogna tenerlo in considerazione nel caso si voglia investire in questa azienda solo esclusivamente per dividendi ma ha un payout ratio del 63 per cento anche in questo caso molto sostenibile. Ultima dell'otto praticamente 170 milioni di euro di market cap l'azienda Shuker Frames va a produrre, disegnare e vendere delle finestre in alluminio o legno o delle strutture che sono fatte di legno o di vetro. Un'azienda che non ci credo veramente mai che sia il 67-61 per cento di sottovalutazione. In termini di crescita futura quasi un 27 per cento dal punto di vista degli earnings e un 30 per cento dal punto di vista del fatturato. In realtà questa è un'azienda che avevo messo in watchlist qualche tempo fa e che è la migliore secondo me di questo lotto se la si guarda da un punto di vista di possibilità di crescita anche di capital gain. Salute finanziarie secondo me interessantissima ovviamente l'azienda ha una capitalizzazione di soli 170 milioni di euro per cui è passibile di forte oscillazioni di mercato però ha quasi 80-82 milioni di long term asset e 50 milioni di debito. L'azienda è andata praticamente da quest'anno finalmente a superare la porzione di debito ma ha anche una grossa porzione di cash che va a coprire qualsiasi cosa. In termini di dividendo abbiamo un 4,68 per cento con un dividendo che è andato a decrescere negli ultimi anni che si prevede andare a decrescere perché ha un payout razio molto alto un 115 per cento ma dal mio punto di vista personale essendo un'azienda molto orientata alla crescita futura non mi porrei questo problema perlomeno perché è un'azienda che ha una certa tipologia di settore di investimento che non è secondo me un settore ciclico perché le finestre servono sempre a tutti se si rompe una finestra bisogna metterla ma da questo punto di vista è l'azienda che mi interessa di più ovviamente in questa carrellata di aziende italiane non sono andato assolutamente in profondità perché la mia conoscenza del mercato italiano è limitata come vi dicevo se volete qualche diritto in più lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi è molto più esperto di me sul mercato italiano vi può dare delle diritte maggiore magari su queste 5 aziende che abbiamo visto in maniera un po più generica in questo video ovviamente se una di queste 5 aziende vi interessa e volete che faccia un approfondimento molto più in dettaglio fatelo sapere nei commenti qui sotto che andiamo a studiarla un po meglio e magari che ne so potrebbe entrare nel mio portafoglio azionario più avanti nel tempo ma torniamo al mio brutto faccione eccoci qua ritornati vis a vis faccia faccia cosa ne pensate aveste scelto anche voi queste aziende oppure ne aveste tenute altre in considerazione mi affido a voi che siete sicuramente molto più esperti di me in materia di aziende italiane è un mercato che paradossalmente lo considero nuovo per me e per cui chi meglio di voi può darmi un feedback in merito io assolutamente non mi arrogo il diritto di dire che sono le scelte migliori ma non penso sinceramente che siano le peggiori o perlomeno pessime ovviamente se questo video è stato il tuo credimento e chiedo per favore per supportarmi per supportare il mio canale di fare veramente pochissimo lasciare un bel pollice in su per l'argomento di youtube per farmi poter crescere su questa piattaforma a te costa un attimo ma ti posso assicurare che per me è un mega dividendo significa il mondo se poi sei nuovo di passaggio su questo canale ti interessano i miei argomenti per favore ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa mai perdere nessun video e contenuto successivo bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovo video ciao a presto ciao 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 ciao